Detta in Milano, siamo sempre in diretta e qui con voi c'è Steph. Partiamo con l'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Steph, è in linea, non so perché non parli. Regia, per favore, passiamo alla prossima. No, no, regia, per favore. Io mi sto per suicidare. Io spero che queste due parole siano un'esagerazione. Per il bene e il rispetto dei nostri ascoltatori, io ora sto per riagganciare. Ma ricorda che ognuno è responsabile per se stesso. Ho la tua attenzione ora. Sono in giro per Milano, nella mia macchina. Accanto a me c'è un ordigno esplosivo, piuttosto pericoloso. Big talk. Big talk. Big talk. Big talk. Big talk! Big talk! Che cosa vuoi? Non è presto per dirtelo. Big talk.